Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Garuccio tenutasi lo scorso sabato presso il nostro santuario dello Scoglio a Santa Domenica di Placanica, il servizio di Luigi Quintieri. Lo scorso sabato presso il santuario di Cesano, nostro signore dello Scoglio in Santa Domenica di Placanica, si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Nicola Garuccio di Caolonia, plurilaureato, molto stimato per le sue elevati doti intellettuali, morali e per la sua forte spiritualità. Il novello sacerdote, ordinato appunto presbitero lo scorso 18 giugno in Albano Naziale, ha chiesto e ottenuto dalla penitenzieria apostolica, al fine di aumentare la devozione dei fedeli e di procurare la salvezza delle anime, in forza appunto delle facoltà ad esse attribuite dal sommo pontefice, in occasione delle sue prime messe, i tesori ceresti della Chiesa donate attraverso l'indurgenza plenaria. Gioia e felicità è stata manifestata in occasione della messa celebrata lo scorso sabato presso il santuario Nostra Signora dello Scoglio, da Frater Cosimo, fondatore dello stesso santuario, che nel suo saluto a Don Garuccio ha richiamato alcune frasi del Salmo 110 «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec», evidenziando ed augurando al giovane sacerdote che il suo ministero possa intanto essere eterno e sia appunto foriero di abbondanti frutti per la gloria di Dio e il bene delle anime, invocando infine su di lui la benedizione della Mamma Celeste che è madre di tutti i sacerdoti. Si è riunita a Cadanzaro la coalizione denominata Rinascita Chiesa.